Pesaro sconvolta e addolorata per la scomparsa ad appena 40 anni di Roberto Biagiotti, avvocato e consigliere comunale, da 20 anni impegnato costantemente nella vita pubblica cittadina. Biagiotti è venuto a mancare oggi in seguito a un tumore che a pochi mesi dalla tremenda diagnosi lo ha strappato all'affetto dei suoi cari, quelli di una famiglia che Roberto aveva da poco felicemente costruito con la moglie Cadia e il figlio Nicolò Alberto di appena due anni. Roberto ha combattuto con orgoglio e dignità la malattia alla stregua delle tante battaglie condotte nella sua professione di avvocato e di politico. Attualmente era sia consigliere comunale a Pesaro che consigliere provinciale. Proprio in provincia oggi è stata issata a bandiera a mezzasta in segno di lutto. Quello di Biagiotti è un impegno politico cominciato già nel lontano 2004 da consigliere di circoscrizione a novilare Candelara con alleanza nazionale. Poi l'elezione a consigliere comunale di Pesaro già nel 2009 vedendolo militare nelle file del centrodestra dal PDL alla Lega fino al passaggio dello scorso anno al gruppo misto. Battaglia che ha spesso raccontato anche ai nostri microfoni di Rossini TV con passione, abnegazione e coerenza. Un dolore che si mescola all'incredulità di tanti pesaresi legati alla politica che lo avevano sentito telefonicamente anche in settimana. Sul social è un florileggio di ricordi dei tanti esponenti di centrodestra che lo hanno accompagnato in queste battaglie, così come commosso cordoglio è stato espresso da chi è stato solitamente avversario dall'altra parte della barricata, da Ricci a Vimini, da Paolini a Bellucci. La legge, la politica, ma anche gli animali e lo sport. Biagiotti è stato anche coordinatore regionale del movimento animalista, aveva una passione viscerale per i cavalli e l'equitazione. È stato anche regbista ed è rimasto costantemente vicino alle sorti della Pesaro Rugby. Un luto tremendo per una città scossa dalla perdita di un ragazzo, dall'esistenza mossa sempre da impegno, tenacia e generosità.